Continua il braccio di ferro tra il governo e le navi ONG Humanity One e Joe Barenz, ormeggiate al porto di Catania. A bordo complessivamente ci sono ancora 247 migranti non ritenuti fragili. I comandanti si sono rifiutati di ripartire, come chiesto dal Viminale. Le navi sono in banchina in attesa che la situazione si sblocchi. In porto, manifestazione a sostegno di migranti che non sono stati fatti scendere, con lo striscione, porti aperti. A Catania si alternano anche esponenti politici. Antonio Nicita, senatore del Partito Democratico. Siamo saliti a bordo, abbiamo riscontrato delle situazioni di fragilità, vulnerabilità, sia psicologica, che poi hanno portato le tre persone a tuffarsi in mare, poi una persona risalita a bordo, due invece hanno passato la notte qui davanti. e anche una serie di infezioni che sono in corso, come ci è stata confermata dal medico di bordo, infezioni che sarebbe da scabbia. Noi abbiamo sollecitato ancora ieri e ieri sera una nuova rivalutazione medica. Mi hanno confermato adesso le forze dell'ordine che sta arrivando questo tipo di valutazione. I legali della Humanity One hanno presentato un'istanza d'urgenza al Tribunale Civile di Catania per chiedere l'immediato sbarco dei 34 ancora a bordo e nelle prossime ore sarà presentato al Tar del Lazio un ricorso contro il provvedimento del governo che impone al comandante della nave di lasciare il porto.